La falda acquifera è inquinata, tanto è vero che la ASL un paio d'anni fa ha dato indicazione di non usare, di evitare, non era un divieto, era un consiglio, di evitare l'uso dell'acqua dei pozzi. Quando noi si va con le ruspe, la forestale è andata a scavare e dove ha scavato ha trovato materiali, rifiuti pericolosi, cos'altro c'è da trovare? Così Elisabetta Conti, membro del Comitato di Quarata, descrive la situazione nella quale si vive nel cosiddetto Triangolo delle Cave, una superficie estrattiva di oltre 300 ettari che si espande da Quarata a Patrignone a Campolucci. Una realtà spesso denunciata dagli abitanti della zona che tramite il Comitato continuano a chiedere verità e soprattutto tutele. Il Comitato delle Cave cerca sempre comunque di appoggiare le proprie affermazioni su delle informazioni certe, su dei dati concreti. Nel corso degli anni l'accesso a queste informazioni è diventato per noi sempre più difficile. Fino a tre settimane fa, quando prima di tutto sono stati negati degli atti pubblici richiesti con regolare procedura normativa e fino al punto in cui il Presidente del Comitato delle Cave è stato tenuto fuori da una conferenza dei servizi alla quale avrebbe partecipato seguendo le regole, cioè come semplice uditore senza fare nessun intervento e nessuna opposizione. Si trattava di parlare di altri terreni da scavare praticamente e ci tengo a dire a nome di tutto il Comitato che va anche sfatata l'idea che il Comitato delle Cave di Quarata, così detto, sia contro le cave. Non è contro le cave, non è contro le attività economiche, estrattive, se queste operano secondo le leggi. Bisogna pur lavorare e nessuno di noi appartenenti al Comitato vuole mandare disoccupate le persone. Si tratta di fare un recupero ambientale e sanitario di conseguenza, perché il rischio, poi la conseguenza, potrebbe essere sulla nostra salute. Dai dati che siamo riusciti ad ottenere la situazione a Quarata è, diciamo, non allarmante, ma è comunque da tenere bene sott'occhio, perché noi abbiamo metalli pesanti nella falda, perché noi abbiamo tutta una quantità enorme di rifiuti interrati e questo è documentato. La falda è tenuta sotto controllo da ARPAT, che è un ente, voglio dire, pubblico, e che i rifiuti siano stati interrati, l'hanno dimostrato le indagini della Procura della Repubblica, che ogni ben di Dio è venuto fuori, rifiuti ospedalieri speciali, pneumatici, batterie e chi più ne ha più ne metto. Bisogna andare a fare la caratterizzazione e bisogna andare a fare la bonifica. È un lavoro enorme, ma bisognerà pur cominciare da qualche parte. Grazie. Grazie.